L'Ilva di Taranto chiederà la cassa integrazione ordinaria per 2.000 degli oltre 11.000 dipendenti del centro siderurgico. Motivo ufficiale è la contrazione del mercato, ma la produzione resta al 70% come l'anno scorso. La cassa integrazione scatta dal 19 novembre per 13 settimane. Riguarda parte della laminazione a freddo e l'area di movimentazione ferroviaria. Non tocca l'area a caldo posto sotto sequestro giudiziario. Il MOF, Movimento Ferroviario, è bloccato da uno sciopero proclamato spontaneamente dai colleghi dell'operaio Claudio Marsella, 29 anni, rimasto ucciso mentre lavorava sul locomotore. Il 30 ottobre scorso la procura ha aperto un'inchiesta, indagati il direttore dello stabilimento Adolfo Buffo e due funzionari, Antonio Colucci e Cosimo Giovinazzi, per occupazione tra i rappresentanti sindacali dopo l'incontro con l'azienda, che si mostra irremovibile. Buio anche sull'autorizzazione integrata ambientale proposta dal Ministero dell'Ambiente. Servono 10 miliardi di euro. Secondo fonti sindacali, l'azienda sta ancora valutando la sostenibilità finanziaria degli interventi di risanamento. Lo sciopero spontaneo prosegue. Una manifestazione si darà sabato pomeriggio per le vie di Taranto. Grazie a tutti.